E poi sto guardando adesso il canale, la pagina di YouTube è troppo simpatica perché in una c'è Maestro Ugwey, prevenire è meglio che curare, si vede la tartaruga, no? Bellissimo. E poi in quella sulla matrice connettivale ci sono tutte le celluline. Divertente. Ecco, e quello che volevo fare era vedere di riuscire a trasformarle in un podcast. Devo solo avere il tempo di ricomporre i miei tempi e poi riesco a fare questa cosa perché poi con il podcast invece possiamo pubblicarle e farle sentire a più persone se tu sei d'accordo. Poi insomma ne parliamo. Certo, ne parliamo. Ne parliamo volentieri, Isa, quando vuoi tu. E qui c'è un vento terribile, non c'è mai vento. Ogni volta che abbiamo la serata con Simona io ho degli eventi estremi. Mi sembra che ci sia buon campo, ci si sente molto bene. Da ieri sera a stamattina funzionava proprio male, non riuscivo neanche a lavorare, fare i siti bene. Quindi sì, ho preferito far registrare a te per quello. Ho visto che l'altra volta avevo avuto delle interruzioni, anche l'altra volta. E adesso vediamo. Infatti io mi sono riascoltata tutta la scorsa. Loedana, chi è che ha il microfono acceso? No, Paolo ce l'accendo, aspetta che glielo disattivo. E niente, buonasera a tutti anche ai nuovi arrivati. Se volete potete attivare il microfono da soli e salutare, senza problemi, perché siamo in pochini, non lo disattivo il microfono. Così anche durante la lezione di Simona, se ogni tanto avete delle domande, potete farle anche durante la lezione. Non c'è bisogno che aspettiate tutti alla fine. Ciao a tutti, ciao Simona, grazie di esserci anche questa sera. Ma grazie a te, grazie a te, è molto bello. E tra le altre cose, Isabella, mi manderò anche l'invito, mi pare sia il 28, perché tengo degli altri mini webinar, questi più orientati ai prodotti e ai terapeuti. Se vedo che c'è qualcosa che potrebbe essere anche di vostro interesse, mi faccio sapere, che così magari tu li avverti, va bene? Grazie. Grazie. Così è un'occasione per seguirti anche in altri video. Esatto, quelli sono un pochino più tecnici, però magari adesso che abbiamo fatto questa base, magari riuscite a seguirli bene anche voi. E l'altra cosa che volevo chiedere, che tutti mi chiedono prima di iniziare, è che non so se sono riuscite, hanno fatto fatica a vedere la registrazione della serata con, che è stata su, ho messo inergia, con la dottoressa Pantaleo. Sì. E non se l'ha dato, perché l'invito che mi avevi dato ha funzionato qualche giorno e poi dopo chiedevo una password per entrare. Sì, allora guardate, ho il link nuovo, adesso ve lo metto innanzitutto, ecco una cosa che, grazie che mi hai servito questa cosa, io ve l'ho detto che sono anche presidente dell'associazione Omeos, di Omeosinergia, lo sapete vero? Sì, allora dovete sapere che adesso, vabbè, abbiamo fatto il tesseramento 2024, per cui giustamente chiedo anche a voi, e vi chiedo perdono se ve lo richiedo perché magari ve l'ho già chiesto, di iscrivervi all'associazione Omeos perché è una forma di rappresentanza. Omeos partecipa a SIM e SIM, Società Italiana di Medicina, il 9 di marzo farà il suo primo congresso nazionale. Tenete conto che SIM è nato il 21 febbraio del 2021, quindi sono tre anni, o due, faccio fatica a fare i calci, quindi 22, 23, sono tre anni. E questo è il primo congresso che si terrà a Bologna. Andate a vedere sul sito della SIM, Società Italiana di Medicina, oppure su quello della Omeos, che è questo qui, che così iscriversi costa tipo 25 o 30 euro, non mi ricordo in questo momento, perché fino al 31 gennaio aveva un costo, adesso è aumentato di un pochettino. Però chi può, chi è vicino a Bologna, è una grande occasione per esserci, ripeto, perché poi ci lamentiamo di tante cose, no? Invece quando poi c'è il momento di essere presenti per far sentire la propria voce, ecco io la penso così, no? Bisogna comunque esserci. Allora, il congresso si chiama Verso la medicina che vogliamo. È un bellissimo titolo, secondo me, e esprime molto bene il senso del congresso stesso, che è quello di discutere appunto di come della piega che sta prendendo la medicina convenzionale, che non mi sembra sia proprio quella migliore di tutte, e quindi di capire anche insieme democraticamente come vogliamo invece che sia la medicina. Saremo tantissimi, oltre 300 persone, stimate, e ovviamente io ci sarò insieme a tutto lo staff di Omeosinergia, per cui chi è vicino a Bologna o che vuole fare sì una bella giornata e ascoltare delle cose interessantissime, conoscere un po' tutti quelli che sono gli opinion leader della medicina integrata in Italia, beh, insomma, non mancate. Qui nella pagina dell'Omeosinergia e dell'associazione, vedete qua c'è la mia faccia, scorrete in fondo e qui c'è modo di caricare il programma e iscriversi. Chiaro? Perfetto. Benissimo. Avete delle domande in proposito? Speranza è invitato? Ah beh, certo, come ospite d'onore. Eh, certo, ovvio, ovvio. C'è un programma veramente molto bello, leggetevelo nel programma, è qua, guardate. Qui c'è tutto, vedete gli interventi? Come si svolgerà? Adesso, vabbè, vedete poco, comunque, ecco, qui c'è il programma, il PDF, lo potete scaricare, tutti i loghi delle varie associazioni, ok. Bene, cosa volete fare? Entrare nel vivo della serata? Non vi preoccupate che vi mando tutti i link sulla pagina. Sì, infatti, poi, Isa, ti giro anche i due messaggi che ho preparato, che se anche i ragazzi vogliono aiutarci a diffondere tra i loro amici, conoscenti, parenti che sanno un po' che la pensano, diciamo così, che ci sia bisogno, cioè, di un confronto in medicina, se ci aiuta, se mi aiutate, io sono veramente felicissima. Simona, volevo chiedere una cosa. L'iscrizione all'omeosinergia e alla SIM è la stessa cosa o no? No, è una buona domanda. Sì e no, cioè, la SIM è un consorzio di associazioni. SIM non è un'associazione. SIM è un insieme di tante associazioni che hanno, ovviamente, nei loro statuti, la vocazione alla medicina, quindi sono 17 le associazioni, quelle potete andare a vedere sul sito della SIM. Di queste 17, 7 sono le fondatrici e la Omeos, l'associazione di omeosinergia, è una delle fondatrici, quindi delle prime associazioni che hanno fondato la SIM. Per potersi iscrivere a SIM ci sono tre vie. La prima è iscriversi ad un'associazione che la compone, quindi se tu ti iscrivi ad Omeos, sei iscritto anche alla SIM, automaticamente. Oppure puoi iscriverti alla lista Amici di SIM, sul sito lo vedi subito nel menu tendina. Oppure adesso stanno costruendo, a partire da gennaio, un elenco dei terapeuti a livello nazionale che si riconoscono nella famosa medicina delle 6P della SIM. Avete sentito parlare di questa cosa da me? La medicina delle 6P la trovate sempre sul sito. Adesso ve la mostro. Praticamente è molto carino. Arriva, eh? Sul vostro canale Telegram ci sono tutti gli estremi per l'iscrizione o no? Sì, sul canale Telegram dell'associazione Omeos, a cui tu ti puoi iscrivere attraverso un link che poi girerò ad Isabella. Isabella, ti girerò. Ok, ok. Ok, c'è un link per accedere al nostro canale Telegram e lì ci sono tutte le varie cose e vengono pubblicate costantemente anche appunto i webinar e tutto. Lì sullo stesso canale c'è la possibilità di accedere ai video delle serate tenute da Giovanna Pantaleo e dal dottor Monsellato sulla filosofia omeosinergetica. Però escono Vimeo lì per poterli vedere. Cos'è quello a fare lì? Che cos'è Vimeo? Sì, Vimeo. Vimeo non è altri che una forma simile a YouTube dove è possibile caricare video, è un service. Non ti devi preoccupare. Ah, quindi scrivendo a voi poi uno può vederla automaticamente. C'è una password da inserire che la password è indicata nel messaggio attraverso il quale tu puoi connetterti direttamente alla pagina dove sono caricati i video. Ah, ok. Grazie. Buona serata. Sì, ma figurati, ci mancherebbe. Quindi, c'era qualcuno di voi connesso ieri sera alla serata sull'amore? Vedo una manina alzata. Io me la guardo indifferita perché non sono riuscito. Ho scritto anche sulla chat. Non ce la facevo ieri. Sì, comunque si vede benissimo anche indifferita appunto. Ah, fatti. Me la godo tantissimo. Per esempio appunto stasera mi sono riascoltata perché volevo capire bene dove ero arrivata. Lo sa l'Isabella che ogni tanto perdo qualche colpo. E devo dire che insomma quando sei lì che cucini, che ti ascolti le cose, è piacevolissimo. Mi piace tanto ascoltarmi le cose anche registrate. Bene, ragazzi, sembra che questa sera non si aggiungerà nessun altro. Anche perché abbiamo cambiato la data dal mercoledì al giovedì. Dal martedì, certo. No, perché mi ha distratto la manina dell'Anna. Cosa vuoi dire, Anna? Posso chiedere una cosa? Qual è il canale Telegram vostro? Allora, noi abbiamo Omeosinergia a diversi canali. L'associazione Omeos è associazione Omeos su Telegram. Ma io ti manderò il link d'invito. Perfetto, grazie. Ti arriva, cioè, adesso magari lo possiamo anche addirittura mettere un chat, ce l'ho qui, vedetemi solo un istante. Facciamo anche la nostra chat senza pubblico. Perfetto. Sì. Guarda, eccolo qua. Questo entra nella riunione. Un attimo, eh. Trainer. Vi do il link diretto e poi dopo vi metto anche il link. Quello. Eccolo qua. Oh, sì, sì. Iscriviti al canale Telegram. Eccolo qua. Chat. Ve lo posto subito. Voilà. Eccolo. Bene. Cosa dite? Iniziamo? Che sono già le 20.44. Quattro. Quattro. Lisa. Ho cliccato sul canale Telegram. Mi spaventato. Mi prego, cominciamo pure. Bene. Vi ricordo, siete riusciti a rivedere la lezione dell'altra volta che era un po' tosta? Quattro. Sento un rumore che è Paolo, che ha il microfono aperto. Scusa Paolo, te l'ho tolto io, perdonami. Te l'ho già silenziato io. E dicevo, qualcuno è riuscito a riguardarsi la registrazione? Sì, soprattutto la parte sulla miopatia è quella che mi ha servita di più perché avevo tantissimi dubbi che hai chiarito molto bene. Non so se è l'Isabella o l'Anna che parlano. Chi è? Isabella, Isabella. Isabella. Avete una voce leggermente simile online, sai, con l'Anna. Non so se ve ne siete rese conto. Allora, siamo arrivati però alla motossicologia perché noi abbiamo capito che cos'è l'omeopatia creata, ideata dal grande medico tedesco Samuel Hahnemann, diciamo, verso la fine del 1700. Poi Hahnemann è morto nei primi anni dell'Ottocento. Diciamo che in tempi più recenti, aspettate che, eccolo qua, in tempi più recenti, si è, quindi nel 900, secolo scorso, no? Nel ventunesimo secolo, un medico altrettanto tedesco che è Hans Reckeweg, tornò sui passi di Hahnemann per rivisitarne le teorie alla luce del progresso biochimico immunologico che a quell'epoca si era già raggiunto nel campo scientifico, molto diverso da quello di fine 1700, capirete bene. Quindi c'era già una conoscenza di microbiologia, una conoscenza avanzata di anatomia, ma quella, diciamo che sull'anatomia anche ai tempi di Hahnemann, insomma, qualcosa si poteva dire. E praticamente Reckeweg sviluppò i suoi studi identificando nella tossina la causa principale della malattia. Cioè, mentre Hahnemann parlava di miasmi, ok, come base della malattia, Reckeweg, che aveva appunto già la base, questa concezione già molto scientifica, contemporanea, diciamo, dice no, no, guarda che quello che crea la malattia è il carico tossico. Voi capite dalle serate che abbiamo trascorso insieme fino a questa sera che ovviamente la medicina omosinergetica prende questo concetto del carico tossico dalla tradizione omotossicologica di Reckeweg. Per quanto noi sapete che non ci basiamo solo su un concetto di tossina a livello esogeno, come un inquinante o un qualcosa che viene da fuori, ma parliamo anche di come le tossine si formano attraverso il rifiuto dell'esperienza. Questo ormai deve diventare, è il mio tormentone, deve diventare praticamente come una cosa assolutamente acquisita e assodata. Il primo, pensate, saggio di Reckeweg contiene già tutte le nozioni fondamentali dell'omeopatia omotossicologica, come lui la chiamò, e venne pubblicato nel 1952. Pensate, è molto molto recente rispetto all'omeopatia, ok? 1952. Quindi immediatamente, ecco, Reckeweg, tra virgolette, cerca di togliere dalla omeopatia tutti quei concetti, secondo una certa visione, privi di basamento scientifico e ricostruisce, diciamo, questa teoria su basi moderne. Le malattie sono l'espressione della lotta dell'organismo contro le tossine, al fine di neutralizzarle ed espellerle, ovvero sono l'espressione della lotta che l'organismo compie per compensare i danni provocati irreversibilmente dalle tossine. Ovviamente voi capite che la medicina omosinergetica non è rimasta qui, ok? Ha fatto comunque un balzo in avanti rispetto a questa visione molto, come posso dire, anche questa un po' meccanica. Questa, vi ho detto l'altra volta, è la tavola su cui si basa la medicina omeotossicologica, la tavola, diciamo, che contiene il concetto stesso di come i sintomi si muovano all'interno dell'organismo. È una cosa veramente, veramente importante questa. Non ve la posso spiegare questa sera, questo è quello che imparano i medici quando fanno i corsi di omotossicologia, ma sappiate che al contrario della medicina convenzionale, dove i sintomi e gli apparati, cioè gli apparati, il luogo dove si manifesta, non so, la pelle, piuttosto che in profondità il sistema nervoso, il fegato, l'intestino, siano completamente scollegati. Questo appare dalla medicina convenzionale. Non vi è cioè un ordine attraverso cui si possa comprendere perché un sintomo compare prima e uno dopo. O nel momento in cui facciamo una terapia, se ad un sintomo se ne sostituisce un altro, qual è il motivo? Bene, sappiate che l'omotossicologia attraverso il concetto di vicariazione spiega tutto questo. È molto, molto appassionante perché attraverso questa tavola Rekkeweg condensa proprio il concetto di come un sintomo evolva, cioè da qualcosa di più lieve possa diventare più grave e da qualcosa di più grave possa essere con la giusta terapia riportato a qualcosa di più lieve. Mi fermo qua, ok? Questa è la tavola delle omotossicosi che la medicina amosinergetica ha leggermente, forse non solo leggermente cambiato, per cui esiste una tavola della medicina amosinergetica con le stesse finalità, cioè di comprendere il movimento che il sintomo fa, ma con delle modificazioni che se un giorno deciderete di fare una scuola di medicina amosinergetica comprenderete meglio. Ma serve soprattutto se la persona vuole in qualche modo specializzarsi come terapeuta oppure quando proprio si sposa questa meravigliosa medicina e la si vuole conoscere meglio anche semplicemente da amatori. Allora, in terapia, ti ricordate l'altra volta che abbiamo detto che l'omeopatia usa un rimedio unico? Ve lo ricordate? Una sostanza diluita in diluizioni che possono essere diverse e però normalmente unica. Mentre Reckeweg modifica anche la terapia. Sapete cosa dice? Dice ma è molto complesso, molto difficile curare con una sola sostanza, andando a ricercare i sintomi che essa maggiormente copre. Ricerca appunto del simillimum o comunque del rimedio più adatto. Ma se io metto in un rimedio tutti quei prodotti che per esempio servono per la pelle? È ovvio che l'organismo li riceverà tutti attraverso un singolo prodotto e grazie alle sue peculiari capacità, visto che noi parliamo di informazione, cioè parliamo di un messaggio che viene dato attraverso un farmaco altamente diluito, quindi una frequenza, l'organismo riterrà unicamente quelle informazioni che gli servono e scarterà tutte le altre. Intuizione incredibile. Nasce il rimedio complesso, quei rimedi che anche noi utilizziamo, che contengono svariate sostanze in diluizioni diverse, proprio seguendo questo criterio che io vi ho dato. Vi è affascinante, vero? Ovviamente avete già capito dalla fotografia che i rimedi che diciamo così abbiamo creato con il dottor Monsellato sono dei rimedi complessi, con una diciamo eccezione che non mi ricordo se ve l'ho messa, eccola, che è quella dei Luxin, cioè abbiamo creato anche una serie di prodotti, una linea così chiamata, vedete che ci sono i tubicini? I Luxin, questi rimedi omeosinergici informati, sono dei rimedi omeopatici plurali, quindi non sono un omotossicologico, ma sono comunque un insieme di rimedi unici. Questi Luxin sono la nostra vera scala per il paradiso, perché essi lavorano, come li chiamo io, ai piani alti. Cosa significa? Significa che lavorano a livello psichico, mentale ed emozionale. Voi conoscete i fiori di Bach? Chi conosce i fiori di Bach? Sì, certo, li conosco. Beh, vorrei che qualcuno che li conosce mi dicesse a cosa servono. Isabella, per esempio, mi dice per cosa vengono usati i fiori di Bach? Allora, è una cosa abbastanza complicata, nel senso che ogni fiore, che possono essere fiori o altre essenze, viene utilizzata per riequilibrare una certa, una certa disarmonia. Certo, in realtà si dice che lavorino sul comparto emozionale, ti risulta Isa? Esattamente, quindi sull'visibile e sull'invisibile, cioè nel senso, su quello che noi siamo consapevoli di avere il problema, ma anche su quello che ai nostri occhi, comunque alla nostra percezione non ci appartiene. Quindi ogni rimedio poi ha diverse sfaccettature, non è una cosa così semplice da dire pura questa cosa. Non è una cosa che aiuta al corpo. Non volevo che tu spiegassi che cosa faccia a sconfiore. Diciamo che la risposta che cercavo era lavora sul piano delle emozioni. Sulla, diciamo, parte, in omosinergia le emozioni sono il linguaggio della nostra anima, sono la valigia con cui l'anima riscende nell'incarnazione, no? Sono proprio i mattoni che permettono lo svolgersi del movimento della vita. Ovviamente in questa linea Luxin ci sono i fiori di Bach. Ce ne sono tre, quindi diciamo una triade, anche questo ha un significato ovviamente simbolico, per ognuno dei nostri rimedi. Ma dentro non ci sono solo i fiori di Bach, ci sono anche alcuni rimedi omeopatici. Che differenza c'è tra un rimedio omeopatico e un fiore di Bach? Il rimedio omeopatico lavora sulla psiche. Cosa significa? Significa che è in grado di raggiungere quegli schemi mentali che addirittura arrivano fino alla patologia psichiatrica, che non è altro che ha un'estrema conseguenza, no? Di uno schema mentale irrigidito e vanno a, in qualche modo, romperli. Quindi lavorano sulla psichismo, sulla psiche, ok? Addirittura con i giusti rimedi omeopatici noi possiamo avere grandi risultati anche sulla patologia psichiatrica. immaginatevi che cosa possono fare invece su una psiche, diciamo, più equilibrata ed elastica come la nostra. Ovviamente, ripeto, quello che si può fare con il fiore di Bach e l'omeopatia insieme non si può fare con le due strategie da sole. Questi rimedi nascono da una tradizione più che ventennale, che prima venivano prodotti da un'altra azienda, sempre su formulazione del dottore Monsellato, e sono veramente meravigliosi. Questi rimedi tendenzialmente consiglio che vengano presi e consigliati da un terapeuta, per cui non è facile, visto che sono 47, sceglierli così, da soli. Sono uno strumento affilatissimo e molto importante. Sono fatti così, vedete? Allora, facciamo un esempio di Arnica. Arnica la conoscete tutti, Arnica Montana. Allora, nel Luxin 45 abbiamo lo Star of Bethlehem, che è il fiore di Bach dei traumi, Genshin e Rock Rose. Estrema depressione, anche, diciamo così, beh, soprattutto quello. E poi nelle associazioni, qui leggete associazioni raccomandate, in realtà è la parte immateriale che è contenuta nel rimedio, c'è l'Arnica Montana, il Gelsemium, che è il grande rimedio del dolore, l'omeopatia, Natrum Sulfuricum e Ignazia, che è il rimedio delle distonie. Qui, per esempio, dolori migranti, come quelli fibromialgici, si giovano moltissimo dell'Ignazia. Non vi nascondo che ne ho preso una dose ieri, perché l'umidità mi peggiora molto, e quindi ho sempre in casa un Luxin 45. In certi momenti dell'inverno la mia dose non me la toglie nessuno. È molto, molto di più. Ma adesso, per farvi capire, questo è uno dei pochi rimedi che si possono prendere on demand, come si è soliti dire, perché l'Arnica serve anche appunto quando abbiamo dei momenti di... siamo rimasti traumatizzati, per esempio con un trauma fisico, una caduta, un incidente. Comunque l'Arnica non dovrebbe... Ah, i denti, quando vai dal dentista, se devi fare un'estrazione. Quindi in casa bisognerebbe sempre avere un Luxin 45, ma anche solo per non doverlo usare. Allopatia. Sapete che l'allopatia è un sinonimo di medicina convenzionale? Sì, vedo, infatti mi piace vedere le vostre testine che annuiscono. Sì, sì. Ok. Scusami se ti interrompo, Simona. Volevo chiederti una cosa a proposito dell'omotossicologia, quando tu parlavi dei fiori di Bach. È vero che i fiori di Bach lavorano a livello vibrazionale? Beh, cioè... Mi spiego meglio. Mentre l'omeopatia lavora con sostanze che possono derivare sia da animali che da prodotti fitoterapici, veleni o quant'altro, i fiori di Bach invece sono stati estratti da elementi che vibrano in un certo modo, così come la patologia o il problema in corso nell'uomo? No. No. Ok. Allora, non c'è questa differenza. Tutto vibra. Tutto vibra. Sì, tutto è fisica. Certo. Però pensavo che come vengono estrapolati, ecco, come vengono riprati. È molto semplice. I metodi con cui viene realizzato un rimedio omeopatico li abbiamo fatti l'altra volta, giusto? Sì. Quindi, come dici tu, o partiamo da una tintura madre che è già l'estratto da una pianta, oppure partiamo per esempio da una triturazione per tutte quelle sostanze minerali. I regni a cui attinge l'omeopatia sono tre. Sì. Vegetale, animale, minerale. Sì. Mentre il fiore di Bach, per sua natura, attinge solo al mondo vegetale. A parte, a parte, rock water. Rock water. Rock water. È l'acqua di rossa, quindi acqua di ponte. E direi che dovrebbe essere l'unico rock water, mi pare di sì, che non attinge al mondo vegetale. Questa è una scelta di Bach. Poi si narra che Bach, andando in giro per la campagna inglese, una volta che si fu ritirato dalla sua professione di medico in campagna, appoggiava il fiore sulla lingua e ne ascoltava la vibrazione. Sì, sì, ci sta tutto. Bach, tra l'altro, era un abile omeopata. Bach, tra l'altro, è il creatore dei cosiddetti, non so, di intestinali di Bach, in quanto omeopata. Poi lui lascia l'omeopatia, dice, è troppo complicata. Si può semplificare e crea il suo sistema. Il modo in cui vengono estratti i fiori di Bach è posizionando, questo è il metodo classico, i fiori raccolti all'alba nel tempo di rugiada, in una bull d'acqua di fonte, vengono messi appunto i fiori e poi esposti al sole, penso fino alla zenith, non ricordo bene, se per tutto il giorno, quindi se dall'alba al tramonto oppure dall'alba al mezzogiorno, non me lo ricordo. A questo punto, quando finita questa, diciamo, questa brevissima macerazione in acqua, senza alcol ovviamente, a quel punto vengono tolti i fiori e quindi filtrato, l'acqua filtrata e poi aggiunto l'alcol per stabilizzarli, ok? Questa è la sushi del fiore di Bach. Quella omeopatica, l'avete visto, gli si impone la succussione e la dinamizzazione. Bene, non cambia niente, cioè il rimedio... Va bene, grazie. ...libratorio, ok? Cioè quello che noi stiamo dando è un'informazione. Che cos'è un'informazione? Un'informazione è un campo, un campo elettromagnetico che per sua natura avrà una frequenza. Quindi tutto questi rimedi si basano su un principio immateriale, quindi non sarà una molecola ponderale che andrà a bussare alla porta di un recettore cellulare, ma sarà una, diciamo così, frequenza che aprirà quel medesimo recettore. Metafora per capire meglio. So se voi avete mai avuto un cancello elettrico. Chi ha un saldo indipendente, di solito ce l'ha. E qui, ecco, lo mette su perché giustamente se piove è una comodità grande, eh? Il cancello elettrico è come la nostra cellula. Se noi siamo in vena di sport, possiamo lasciare il telecomando in casa, avvicinarci al nostro cancello, tirare giù la maniglia, aprirlo, chiuderlo, aprirlo, chiuderlo. E quello è il recettore molecolare. Come c'è la molecola? Arriva, bussa alla porta del recettore, si aggancia, il recettore si apre, la molecola riesce ad entrare nella cellula. Mentre la informazione elettromagnetica che viene data dal rimedio omeopatico, ok? È come il telecomando. Arriva una frequenza, il cancello cosa fa? Si apre. È chiaro il concetto? Benissimo. Devi sapere un'altra cosa, che le cellule ogni giorno, ogni istante, ogni millisecondo funzionano con entrambi i criteri, sia quello molecolare, per esempio gli ormoni, quello cellulare, l'insulina stessa che è uno degli ormoni che, diciamo, lavora di più, poverino, lavorano così, questo tipo di imprinting, chiave toppa, molecola, recettore, sulla membrana della cellula. Ma ogni millisecondo la cellula lavora anche sfruttando il campo, tanto che i trilioni di reazioni coordinate che si svolgono nel nostro metabolismo non sono rese possibili dalle molecole, che hanno dei tempi di percorrenza, perdonami il termine, piuttosto lenti, ma dal campo. Nessun coordinamento reale di questo enorme concerto, un concerto così grande che per noi è inimmaginabile, può essere giustificato attraverso una regolazione molecolare troppo lenta. Sono riuscita a spiegarmi? Sì, assolutamente. Grazie. Grazie a te. È talmente affascinante tutto questo che il vero cambio di paradigma in medicina sarà sicuramente il salto tra una visione esclusivamente di tipo biochimico molecolare ad una visione di tipo biofisico. Questo è, diciamo, la cosa per cui lavoriamo costantemente. Per cui hanno lavorato le persone che io reputo i miei maestri e che sono le persone che stimo per la loro integrità scientifica e morale. Allopatia, medicina convenzionale. Quali sono le caratteristiche di questa medicina? Ahà, suspense. È una medicina sintomatica, siete d'accordo? Cioè, abbiamo, che ne so io, l'eczema, prendiamo il cortisone. A cosa serve il cortisone? A mandar via l'eczema. L'eczema è il sintomo, il cortisone è la cura. Ma questa cura si occupa del perché abbiamo i puntini sulla pelle? No. Va sul sintomo. Spia rossa, martellata. Spia rossa, mola svito. Qual è la seconda caratteristica? È tossica. Perché è tossica? Perché è una medicina che, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto il fitocomplesso la volta scorsa, è una medicina che sfrutta la concentrazione del principio attivo con la presunzione che questa maggiore concentrazione corrisponda ad una maggiore efficacia, cosa che noi abbiamo compreso non essere vera, giusto? Poi abbiamo l'omotossicologia, l'abbiamo appena vista. Quali sono le caratteristiche dell'omotossicologia? Che è anch'essa sintomatica? Perché anche l'omotossicologia lavora sul sintomo, però è atossica. Nel senso che i suoi rimedi complessi, altamente diluiti, ovviamente questo si può dire anche dell'omeopatie, lo vedrete, i suoi rimedi altamente diluiti sono incapaci di creare effetti collaterali indesiderati. Attenzione, ancora una volta vi dico non confondiamo l'efficacia e l'effetto con l'effetto collaterale indesiderato. Cioè se io sono piena di tossine e queste cominciano a uscire e mi viene un'eruzione cutanea, quella è una vicariazione. Significa che io sto buttando fuori la tossina, non che sono peggiorata o che il farmaco mi ha dato un effetto collaterale. Ok, mi spiego? Ok. Poi abbiamo l'omeopatia, che in realtà questa slide dovrebbe essere prima l'omeopatia e poi l'omotossicologia. Ah no, perché sono invertite, ce vanno... Vabbè, omeopatia è caratteriale, ok? Perché qui non riusciamo a spiegarlo bene, perché vi manca tutta la parte della teoria omeopatica relativamente a come funziona la vis medicatrix natura, cioè come funziona in realtà la strategia della malattia, quindi quello che vi ho accennato prima, i miasmi. Prendetela così. E però anch'essa atossica, ok? Poi abbiamo l'omeosinergia, che è personale. Personale perché l'omeosinergia non lavora sul sintomo. Eh no, no. Lavora invece sull'individuo, quindi sulla sua, diciamo, tendenza ad ammalare e addirittura utilizzando il test chinesiologico sul sintomo che... Chiedo scusa, non sul sintomo, sulla risposta che, diciamo, la persona stessa dà in senso non razionale, no? Perché sappiamo che il test chinesiologico sfrutta una via analogica, una via basata su quella parte di noi che è la maggiore, che è involontaria. L'omeosinergia è anche atossica. Queste sono le differenze sintetizzate tra le varie terapie. Volevo farvi vedere, allora, adesso vi dico, vi cerco di spiegare, quindi omeopatia, ammotossicologia, e allora l'integratore alimentare cos'è, no? Perché oggi sappiate che la maggioranza delle aziende spinge agli integratori alimentari, ok? Perché con quelli si fa cassetto, sono comprensibili, si dice, eh guarda, prendi questo, prendi questo che ti fa bene. Per tutto, la famosa panacea, ma no, non è così, non è così, che è una cosa ti può far bene per tutto. A maggior ragione se un integratore alimentare, recependola, è questo, recependola a direttiva europea del 2002, numero 46, Ok? Dal 2004 è entrato in vigore in Italia un testo di legge che regola con grande rigore il mercato degli integratori, ok? Che vengono definiti, e questa è la definizione di integratore, i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine, i minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico. In particolare, ma non in via esclusiva, amminoacidi, acidi grassi, essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale. Eccolo qua. Tutte le sostanze contenute nel cibo e che hanno lo scopo di migliorare il funzionamento dell'organismo, di sopperire a carenze alimentari, di favorire lo stato di benessere della persona e soprattutto di prevenire alcune malattie. Allora, differenza. Allora, eccola qua. Questa slide, dopo spero che ve la guarderete con molta attenzione, perché ho cercato, l'ho fatta apposta per voi, di fare ulteriormente una sintesi delle differenze tra le varie terapie, ok? Vedete che vi ho, come si dice, evidenziato in azzurro, scusatemi, colorandole diversamente dal nero, le cose che reputo più importanti. Per esempio, i farmaci di sintesi sono ponderali, concentrati, composti di un unico principio attivo. Cosa fanno? Stoppano un processo bloccando la catena enzimatica o uccidendo i microbi. Bloccano la matrice connettivale, l'abbiamo visto l'altra volta, no? Bloccano l'infiammazione, quindi l'infiammazione fisiologica. Agiscono in un punto preciso di una catena metabolica e quindi non la tengono in considerazione nel suo complesso, ma lavorano in un punto singolo. Costringe il corpo ad andare dove vuole lui e ha sempre effetti indesiderati. Man mano vi vado a far vedere quali sono le peculiarità delle diverse terapie. L'omeopatia e l'omotossicologia sono quelle strategie meno ponderali che riescono a agire su tutto il processo metabolico grazie alle componenti attive. Drenare il carico tossico, riattivare la matrice connettivale, regolare nel suo complesso un processo, ok? Arriva come messaggio elettromagnetico, l'abbiamo appena visto, debole, cioè lascia al corpo, e questo è un concetto che mi piace tantissimo, la decisione di cosa tenere e dove andare. Vi ricordate quello che vi ho detto prima? Tante sostanze, il corpo prenderà quello di cui ha bisogno. È molto democratico il rimedio omeopatico, non trovate? Molto evoluto, non può avere effetti indesiderati. Il resto ve lo lascio leggere a voi. Ci sono proprio tutte le differenze. Vedete? Farmaco di sintesi è ponderale, integratore alimentare è ponderale, la fitoterapia è ponderale, l'omeopatia è poco ponderale o non lo è affatto. Vedete qua che differenze incredibili ci sono tra una strategia e l'altra? Il farmaco di sintesi stoppa un processo. L'integratore alimentare colma una carenza, va somministrato quando la carenza esiste. La fitoterapia regola un processo e anche l'omeopatia. Qui è una cosa interessante, blocca, dice, il farmaco di sintesi blocca la matrice connettivale, l'abbiamo visto, spegne l'infiammazione, il connettivo gelifica, si ferma lì. Una fotografia tipo, l'integratore alimentare dipende, la fitoterapia dipende, mentre l'omeopatia e l'omotossicologia mai. Cosa ne pensate di questo? È sufficiente per capire le differenze di quando utilizziamo una terapia? state guardando, state dormendo, avete una domanda? Sì, io sto leggendo. Bravi, finite pure di leggere, perché già questa slide qui è, come posso dire, il distillato alchemico di tantissima roba, ma però spero di essere riuscita a renderla semplice. Potremmo fermarci qua. In realtà, questa è la sintesi del perché scegliere di curarsi con l'omeopatia e l'omotossicologia, oltre che con la fitoterapia. E quindi, posso fidarsi a un terapia? Dimmi, Isa, scusa. Dove la collochi lo zonoterapia qua? Cioè, so che non è una... Beh, vedi, lo zonoterapia è, diciamo, adesso qui non ho, potrei inserire tante altre terapie, ok? Però, diciamo che ci sono tante forme di terapie meccaniche che, utilizzando una particolare sostanza, vanno ad intervenire su alcuni processi, no? Ok, lo zonoterapia, per esempio, sfrutta questo processo che lavora appunto sempre sull'infiammazione e quindi, attraverso lo zono, va a creare una microinfiammazione locale che poi va a sbloccare un processo, quindi non è sicuramente soppressiva, ok? Non è una terapia soppressiva, però sicuramente è una terapia che va ad indurre qualcosa forzatamente, perché il corpo non si può esimere dal reagire, mi stai capendo? Quando tu ti... questa cosa qua è molto importante, no? Quando tu utilizzi una terapia omeopatico-omotossicologica... Io dico... allora, vi faccio l'esempio. Se io voglio dormire, io voglio dormire, no? Prendo un sonnifero. Secondo voi il mio corpo si può opporre all'effetto che quel sonnifero fa? No? Posso io prendermi un litro di caffè per antagonizzare l'effetto del sonnifero e poi posso cominciare a girare intorno al tavolo, andare a fare una passeggiata al freddo, però il mio corpo farà molta fatica a, diciamo, contrapporsi a questa induzione. Mentre se io assumo coffea cruda, che è uno dei rimedi che si possono prendere per dormire, perché ovviamente lo sapete, il caffè in omeopatia serve per dormire, non per stare svegli, perché c'è l'effetto inverso, dose dipendente, di cui abbiamo accennato la scorsa serata. Quindi io farò pochissima fatica ad evitare di dormire se non mi predispongo invece al, diciamo, al sonno. Oppure se il mio corpo in quel momento non vuole dormire perché sono in attività, eccetera, io non dormirò. Se invece prendo della scolzia o della passiflora fitoterapica, mi funziona come un sonnifero, ragazzi miei, cioè sarà difficile per me evitare di addormentarmi una volta che mi sono calata 40-50 gocce di scolzia, che insomma funziona particchio bene, o di valeriana. Guidare stando attento dopo che mi sono preso 50 gocce di valeriana non è semplice, ok? Quindi è molto importante, ma questa non è la cosa più importante, no? La cosa più importante è l'effetto regolatorio. Vedete qua? Regola un processo. Cioè, attenzione, un conto è integrare una carenza, integratore. Un conto è andare a piede dritto a stoppare un processo che riteniamo malvagio. Così, giusto per avere, diciamo, un giudizio di tipo religioso. Perché non è biologia ritenere un processo malvagio, è religione, ovviamente. Un conto è regolare un processo nella sua integrità, ok? Quindi è questa la magia che sta dentro un rimedio diluito e omeopatizzato, che sia omeopatico, che sia omeotossicologico. La possibilità di intervenire in punta di piedi. Ora, è chiaro che se tu hai un hernia al disco, ti mando sicuramente a fare lo zono, no? Così come se vuoi migliorare la microcircolazione nelle cosce per la cellulite, è un tocca sana. Addirittura non c'è solo lo zono, c'è un'altra macchina, quella per la carbossiterapia, che usa l'anidride carbonica. Io lo, se ritrovassi qualcuno che ce l'ha, perché non vi nascondo che sull'antinvecchiamento è eccellente. Però anche lì sono le scamotage, no? Nel senso che tu induci un processo, obblighi cioè l'organismo a fare quel tipo di reazione, che non è sbagliato in questo caso. Però ecco, per darvi un po' una differenza, vediamo che cosa c'ho dopo. Vabbè, niente di che. Avete altre domande su questo aspetto delle differenze tra i vari rimedi? È molto importante perché io volevo arrivare qui. Scusa Simona, mi fai nello specifico l'esempio di un integratore alimentare? Cosa intendi per integratore alimentare? Tadà! Ah, ecco, l'acetilcistein. Certo, sono moltissimi, però molti li conoscete, molti li conoscete. Di alcuni ho grandissima stima. E voglio dire, io non so mica contrari agli integratori alimentari, eh. Cioè, io li amo profondamente perché in certi momenti possono fare la differenza. Perché sai, a volte insomma un organismo ne ha di carenze, ne ha per molti, molti motivi. Eh, allora benvenga, noi li usiamo tanto gli integratori nutrizionali. Facciamo l'esempio dell'acetilcisteina, il NAC, che è dentro il nostro sciroppo. Luxfitotus. L'acetilcisteina è venuta agli onori della cronaca, diciamo, negli ultimi tre anni, perché è uno di quei rimedi che sappiamo poter essere utili per la pulizia della spike, della proteina spike, e anche perché in tutte le forme di tipo catarrale, comunque broncopolmonare, aiuta la fluidificazione delle secrezioni. Mai come in quest'ultimo inverno, perché quest'inverno c'è stata le bronchiti, gli inverni precedenti le polmoniti. Quindi, ehm, quest'inverno in particolare, eh, c'è stata una forma di catarro perniciosa, che praticamente si aggrappava alle pareti della trachea, per non essere espulso. Quindi, mi è tornata alla mente, diciamo, eh, voglio dire, l'ho apprezzata particolarmente l'NAC, cesteina, che è un derivato dell'aminoacido cisteina, che si trova comunemente in alimenti ad alto contenuto proteico, come il pollo, le uova e i legumi. Quindi, eh, l'NAC può contribuire ad equilibrare i livelli di glutammato, che rappresenta uno dei più importanti neurotrasmettitori e promuove la crescita di nuove cellule cerebrali. Pensate che meraviglia, ok? Poi, a un certo punto, la Bolgan, ehm, ci parla della, ehm, diciamo, della NAC aumentata, N-aceticisteina aumentata, e che ancora non sappiamo bene che cosa voglia dire, però dice innovativa tecnologia, ehm, incrementa le proprietà antiossidanti. Quindi sappiamo che la macisteina, ehm, scusatemi, che la N-aceticisteina eh, può avere anche un'importante azione di tipo mh, antiossidante, sui radicali liberi. Ma la verità sull'N-aceticisteina è che sul discorso del catarro lei lavora perché rompe i ponti di solfuro, quindi quelli dello zolfo, ehm, della proteina spike, ok? Quindi non soltanto delle, delle secrezioni, ehm, come il muco, che sono pieni di questi ponti, eh, di solfuro, di solfuro. Ma anche la proteina spike, quindi può essere utilizzata, questa, mh, sostanza, proprio per eliminare parte della proteina spike, eh, prodotta. vedete qua, modificando il sito di legame quando rompe i ponti di solfuro e disturbando l'interazione con il recettore ACE2. Quindi praticamente, eh, è importante, eh, utilizzare la N-aceticisteina eh, in questo momento, visto che con la vaccinazione di massa, purtroppo molti problemi derivano dall'iperproduzione di spike. sto sintetizzando. Eh, vi dicevo che, eh, noi abbiamo il Lux Phytotus, è interessante perché invece che essere in busta, quindi in polvere, la, mh, la N-aceticisteina è liquida in questo prodotto, prodotto che contiene tante belle piante che vanno a lavorare sulla, eh, bronchi e polmoni, e in più, eh, in 30 ml si raggiungono i 600 mg di NAC, che sono quelli che vengono consigliati come dose massima giornaliera. Quindi se volete assumere un ottimo prodotto, ehm, che vi va, va ad avere sia un effetto broncopolmonare che anche sistemico, avete questo, eh, sciroppo che tra l'altro ci fa un'azienda alto emiliana, perché lavoriamo tutto in Italia, no? Quindi, eh, un'azienda, eh, artigianale che riesce a fare questo prodotto meraviglioso che è la Solimè, privo di alcol e di zuccheri. Spesso di nuovo una lancia per dirvi, mh, ecco, scusatemi, prima di arrivare qui, ehm, gli integratori sono tantissimi. Faccio un altro esempio a me caro, volete un altro esempio oltre alla NAC? Oh, sì, è un, uno degli integratori che io consiglio e utilizzo da molti anni è, ehm, il colostro. In realtà, c'è quello di mucca, c'è quello di capra che è molto più raro, c'è quello d'asina che è ancora più raro di quello di capra che contengono una sostanza importantissima per l'intestino, ok, che è stata studiata e resa nota da questo studioso che si chiama appunto dottor Mainardi, Stefano Mainardi, che ha creato un prodotto che si chiama Serplus. Andatevi a documentare perché è una storia interessantissima. Questa sostanza lavora sulla, diciamo, sull'intestino, nella sua componente immunitaria e anche in quella legata a quella che si chiama la Leaky Gut Syndrome, cioè la sindrome da permeabilità intestinale. Così importante quando si tratta anche dei disturbi di tipo neurologico nel bambino, quindi disturbi dello spettro autistico. Volevo dirvi il nome della sostanza ma ovviamente faccio una figura terribile perché in questo momento dopo aver parlato di NAC adesso mi viene in mente ve la dico e comunque è contenuta nel colostro che adesso normalmente viene estratta e anche qui come vi dicevo prima viene concentrata, ok, questo non è un prodotto in diluizione di cui vi parlo anche il Serplus sono prodotti ricchi di questa sostanza che viene estratta dal colostro e il colostro è il primo nutrimento per noi mammiferi quindi è una diciamo una sostanza ricchissima di ogni ben di Dio compresa questa famosa sostanza eccezionale che adesso a breve vi dirò qual è. Comunque andatevi a vedere i lavori di Mainardi. Allora vi stavo dicendo una cosa che dovete sempre ricordare è che non esistono prodotti neutrali quindi dopo quello che vi ho detto della differenza tra i vari prodotti integratori oppure omeopatici o motossicologici dovete sapere che qualsiasi tipo di prodotto da quello allopatico a quello omeosinergetico dietro ha una visione ha un intento per esempio dico spesso un antibiotico un antibiotico viene come si dice prodotto con una mission quale? Uccidere i batteri quindi è inutile pensare che un antibiotico sia neutrale l'antibiotico nasce per quello compito lì quindi ricordatevi che di essere certi di quale tipo di mission ci sia dietro i prodotti la mission che c'è dietro i prodotti dell'omeosinergia ormai dovrebbe uscirvi dalle orecchie perché è quello di modulare i processi infiammatori di rispettare l'infiammazione nell'ottica che la malattia è ovviamente una benattia e quindi giustamente che cosa fanno i rimedi dell'omeosinergia detto tutto questo fanno quattro perdonatemi quattro azioni importanti la prima riduzione del carico tossico detto per certi altri versi detox o anche drenaggio del carico tossico sì benissimo si prendono cura della matrice connettivale anche questa ve dovrebbe uscire dalle orecchie il nostro connettivo il tessuto ubiquitario il principio femminile dentro il nostro corpo che tutto avvolge e che tutto sostiene meraviglioso questa cosa che io vi ripeto stasera è uno dei must del formulatore di questi rimedi che è il dottor Luigi Marcello Monsellato il rispetto della matrice connettivale la sacralità della matrice connettivale è dentro ognuno di questi rimedi perché per noi è fondamentale poi abbiamo la riattivazione dei naturali processi di regolazione ok riattivazione e regolazione sono le parole chiave perché per noi è importante riattivare cioè non capite che è completamente capovolta l'ottica noi non abbiamo non dobbiamo chiudere dei buchi noi non dobbiamo sopprimere un processo noi lo andiamo a riattivare perché mentre tutti si riempiono la bocca di come sia l'infiammazione la colpa della malattia noi diciamo no l'infiammazione è la soluzione e riattivando la matrice e il suo processo fisiologico di infiammazione che noi curiamo le malattie croniche è un punto di vista completamente capovolto io mi trovo costantemente a vedere medici che annuiscono poi quando ci ritornano sopra dicono bisogna come si dice risolvere l'infiammazione no no l'infiammazione è la risposta e quindi noi la dobbiamo accendere questo cappero di fuoco non solo diciamo a livello di fisiologia ma anche dal punto di vista comportamentale oggi leggevo un articolo scritto dal dottor Monsellato che uscirà sul prossimo numero della rivista l'altra medicina un articolo bellissimo bellissimo su un caso clinico dove appunto il dottore diceva la vera guarigione risiede nel tornare a riappropriarci di noi di tutta quella parte che noi abbiamo silenziato per convenzione per quieto vivere questa è la vera guarigione riattivarci bruciare questo è vivere i bambini bruciano sono caldi sono sempre in movimento ecco questa è la guarigione e la consapevolezza cioè capire che la malattia è un messaggio non è una sfiga queste sono le quattro cose che stanno dentro i rimedi dell'omiosinergia non mi sembra per niente poco perché ho fatto così la consapevolezza ecco consapevolezza del senso della malattia e del ruolo del sintomo mi pareva che mancasse qualcosa nella slide buona sì ti sento chi è se la malattia ti chiedo questa cosa la malattia è bella sì adesso ti perché vieni ti chiedo questa cosa se la malattia è ah ok perché sono lontana cioè se la malattia tu hai appena detto una frase se la malattia cioè ci porta alla consapevolezza puoi ripetere la frase che hai appena detto allora no io stavo dicendo che tu dentro i rimedi è un figlio la mia adesso cioè porta la consapevolezza la salute no perché dicendo che la malattia è una benattia sì ok quindi c'è il sintomo di guarigione no la salute che se uno sta bene c'è nel senso io ho capito la domanda se uno sta bene non è detto che non abbia niente cioè nessuno è perfettamente nel senso non è vero che qualcuno è perfettamente in salute cioè sta bene perché non si accorge di star male quindi sono fortunati quelli che hanno i sintomi perché quello a cui sono arrivata io che ho scritto anche nel famoso è che chi è più reattivo nel senso che ha più disturbi anche minimi e riesce ad ascoltarli sono quelli che poi dopo magari avvitano malattie più bravi perché il loro corpo li avvisa e se riescono a recepire questo avviso riescono diciamo a guarigli più facilmente ok ma se una persona sta bene ma proprio bene cioè è possibile ci sono delle persone che stanno bene per un po' la salute perfetta ce l'ha allora non esiste illuminati cioè chi aggiunge un certo piano anche spirituale no 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 come domani devi cambiare la tua idea di salute devi cambiare la tua idea di salute la salute non è assenza di sintomi questa è la chiave di volta ok la salute non è assenza di sintomi la salute è un equilibrio dinamico segui bene fare bene come dici se non sta bene sta bene da felice da isabti si sente molto male ci sei no parlavo anche piano perché era come parlare tra me e me cioè nel senso chi sta bene se uno sta bene da felice non è salute sì certo ti sto dicendo che la salute la salute non è assenza di sintomi questa è la chiave quando tu vivi tutti noi entriamo sempre nel rifiuto dell'esperienza e quindi se siamo inconsapevoli che siamo nel rifiuto dell'esperienza accumuliamo un carico tossico che poi sfoghiamo nel sintomo è chiaro che se questo processo è un processo dinamico dove noi esperienza rifiuto consapevolezza del rifiuto del senso diciamo di quell'esperienza ovviamente il carico tossico sarà lieve ma se noi entriamo nel rifiuto dell'esperienza ci rimaniamo dentro vent'anni è ovvio che dopo un certo punto il sintomo diventerà sempre più importante fino anche ad arrivare a diciamo la malattia strutturata mi sono spiegata scusate voi che ascoltate perché secondo me la Isa si sente poco non so se mi sente non mi sente per voi è chiaro dimmi io ho capito che la differenza è che nel problema ci stai molto poco quanto tempo ci rimani certo perché se tu ci passi lo vivi ne sei consapevole ma ne esci in fretta e questo è anche il tuo piano evolutivo sicuramente che ti permette di uscirne in fretta ecco che non avrai sarai sarai pulito nel senso che tutti queste quattro fasi le passerai velocissimamente e la tua vita sarà felice e sarai un essere che sta bene ma tu devi però passarci in queste quattro fasi e questi piccoli traumi li devi vivere anche frazioni di secondi perché se non li vivi proprio forse era quello che intendeva dire Isabella se invece uno non prova mai e sta sempre felice sta sempre bene può accadere no 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 perché non sarebbe umano no perché non è questo che la vita ha previsto per noi per noi per noi ha previsto una bilancia e certo perché non esiste si chiama sistema di flusso che non ci sia un'emozione negativa mai mai no no le emozioni non sono negative mai negative sono dei flussi dei flussi di energia non è non è che noi stiamo male perché è negativo ragazzi è un molo no no è un molo una struttura culturale che per poterla trasformare bisogna usare la dinamite perché voi tornate sempre lì io stessa ci ho messo molti anni ad entrare in profondità nel messaggio sappiate che entrare in profondità in questo messaggio è il vero cambio di paradigma tra l'era dei pezzi e l'era dell'acquario eh per cui voi dovete star capiti dovete cercare non di di capire in profondità quello che vi dico il sintomo non è negativo la malattia non è negativa è un processo questo processo avviene per dei motivi il motivo è che noi entriamo nel rifiuto dell'esperienza il carico accumuliamo un carico tossico che è tanto più alto è importante tanto più alto è importante e lungo sarà il rifiuto dell'esperienza il rifiuto non si può togliere ci sarà sempre perché è il marchio dell'essere umano è quello che ci definisce quello come hai già capito giustamente tu Loredana quello che cambia è la linea del tempo quanto tempo rimaniamo nel rifiuto questo ci è dato trasformare il tempo la persona non esiste una persona che non abbia sintomi se non in un modo perché lui il sintomo non lo ascolta è talmente bloccato che non sente è come un sordo voglio dire non è che bisogna andare molto lontano io se non avessi preso una certa strada sarei arrivata lì come moltissimi altri che le devi abbattere sparandogli una cartuccia con quelle degli elefanti perché dici come fa a stare in piedi quella persona lì non sente ma questo non è solo un processo nel corpo è anche un processo nell'anima è un processo nel cuore ok questa insensibilità è come se ci fosse un'interruzione tra qui e qui quindi gente incastrata nella testa che pensa 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 e il corpo non lo sente sapete perché so tutte queste cose perché io ero già lì ero diventata questo all'età di soli 25 anni ho dovuto fare il rewind riarrotolare il nastro ok perché non sentivo più il corpo allora non è un'assenza del sintomo è che tu non lo senti chiaro in realtà sentire il sintomo è un privilegio perché è quello che ti guida come fai a guidare una macchina con le orecchie sordo e cieco come fai a guidare la macchina se sei sordo e cieco a un certo punto vai nel fosso e per il fosso intendo un bel infartino un tumore fulminante tutto quello che ti viene in mente un incidente perché se tu sei sordo e cieco nel fosso ci finisci sapete cos'è la consapevolezza non essere sordi e ciechi ascoltare a volte è scomodo ascoltare vorresti non farlo ma però vai a finire nel fosso o viene investito perché se non senti i segnali acustici quando vai in macchina è pericolosissimo mi state capendo questa è la consapevolezza posso ipotizzare un termine per definire tutto questo una parola perdono 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 di che cosa del trauma perdono della della sofferenza perdono del problema perdono non esiste il perdono se non sotto forma di come dono il perdono non esiste perché nel concetto di perdono classico c'è qualcosa che come si dice ha deragliato dall'essere giusto no la vita la vita si esprime con dei meccanismi perfetti ok noi non dobbiamo perdonare nessuno noi dobbiamo solo renderci conto di come la vita funziona perché la vita funziona secondo dei principi ok questo è il meccanismo renderci conto di come la vita funziona cosa significa perdonare una persona perché di solito il perdono noi lo mettiamo in relazione degli altri e di noi stessi allora mettiamo che noi si voglia perdonare una persona cosa vuol dire vuol dire appunto far andare via prima prima questo problema no 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 mi devi spiegare cosa vuol dire perdonare qualcuno spiega allora accettarlo essere consapevole non opporsi non ostacolarlo non rifiutarlo non rifiutarlo hai detto cinque concetti completamente diversi uno dall'altro cinque beh ma vogliono dire tutti la stessa cosa in maniera più assoluta no no accettare qualcuno non vuol dire perdonarlo perché il perdono prevede che questa persona ti abbia fatto un torto cioè no i termini hanno dei significati ogni termine è stato creato per avere un significato specifico proprio perché la lingua deve essere precisa allora perdonare se lo vai a cercare sul dizionario vuol dire anche nella religione cristiana vuol dire rimettere a qualcuno un torto cioè ti perdono anche se mi hai fatto questo questo è il perdono ma si ti perdono ti perdono mi hai pestato un piede mi hai fatto male ti perdono sbaglio è questo il perdono se no lo chiamerei accettazione ma il perdono non è l'accettazione l'accettazione è come si dice mi hai pestato un piede mi fa male ma lo accetto non è il perdono è un'altra cosa e potremmo continuare a lungo fermiamoci sul perdono siete d'accordo se diciamo che il perdono è quella cosa quella parola che definisce quell'atto secondo cui io perdono cioè perdono a qualcuno di avermi fatto un torto sì rimane sempre che l'altro ha sbagliato in questa certo rimane sempre che l'altro ha sbagliato ok te lo accetto per quello noi non usiamo mai la parola perdono perché per noi l'altro infatti io dico perdono ma come Isa non ti sento proprio lo che dico io adesso vedo che adesso scrivo magari perché quello che dico io in questi giorni è non ti perdono perché ormai ma ti ringrazio comunque per l'esperienza perché l'esperienza che ho avuto tramite il confronto con questa con questa persona mi ha portato a capire delle cose e a crescere sicuramente quindi il perdono mi dà un po' l'idea di di essere buoni e santi cosa che non sarò mai però imparo dall'esperienza e quindi ringrazio profondamente le esperienze che mi capitano ogni giorno e devo dire che questo è in più nel dire di affidarmi a quello che succede perché c'è un qualcosa che noi non sentiamo che è più intelligente di noi e aiuta tantissimo a non soffrire per cose che in realtà ci farebbero tantissimo male però non è una cosa che viene spontanea e ci vuole il lavoro sì in realtà Isa c'è un passaggio mancante in questa cosa del perdono che non diciamo non ho detto noi sostituiamo al perdono un altro concetto che è il nutrimento se è vero come è vero che esiste la legge del simile e ne abbiamo parlato tutta l'altra volta il simile che attira il simile che è uno degli otto principi secondo cui noi in nome o sinergia in qualche modo spieghiamo il funzionamento della vita in maniera estremamente sintetica perché io sono anche buddista vi garantisco che ci sono grossi tomi di filosofia per dire le stesse cose quindi io apprezzo molto il dono della sintesi ecco che sostituiamo il perdono con il nutrimento cosa vuol dire quando noi attiriamo un'altra persona in nessun modo possiamo pensare che sia né casuale ok e né avulso dal nostro bisogno se condividiamo con quella persona un certo tipo di esperienza è perché ci serve di cosa lo dobbiamo mai perdonare come diceva giustamente la norma nel concetto di perdono c'è il fatto che lui ci abbia fatto un torto ci abbia chiaramente offeso in qualche modo che ci abbia portato via qualcosa che ci abbia fatto una ferita ok ma se noi sostituiamo nel momento dell'incontro il simile che attira il simile sappiamo che quell'altra persona non ci ha fatto niente di male anzi ci ha dato un'enorme opportunità per poterci riconoscere nel rifiuto dell'esperienza nel rifiuto di noi stessi ok e ovviamente ci ha dato una guida l'altro per comprendere meglio ciò che rifiutiamo in noi stessi cioè cosa non solo che lo facciamo ma anche cosa rifiutiamo in noi stessi una volta che tu vivi l'esperienza e l'altro in questo modo non c'è ragione di perdonarlo nella maniera più assoluta non c'è ragione di perdonarlo anzi il perdono viene sostituito dal ringraziamento grazie perché tu sei stata la mia migliore opportunità non è teoria è esattamente come vivi nel momento in cui abbracci questo tipo di visione un cambio di punto di vista tutto lì e non c'è non ci sono sconti ok la vita non fa sconti capita quello che deve capitare il punto è come tu lo vai a vivere ok come tu lo vivi la vita è fatta di positivo e negativo come l'atomo la struttura stessa della vita è fatta di positivo e negativo e noi non possiamo cancellare il negativo se no la vita si ferma muore non esiste niente che possa sopravvivere se non attraverso i due poli lo dicevano già come si dice i taoisti diversi tipo 3000 anni fa ecco lo sapevano molto bene non è possibile togliere la parte negativa è possibile solo permettere alla ruota di girare ok siete sazi oppure avete altre altre domande perplessità anzi fate domande abbiate perplessità siete basiti sì non trovo non trovo come come alzare la mano con zoom l'ho fatto di persona eh Simona ciao io vorrei due cose chiederti che in qualche modo mi riguardano personalmente ma può essere anche un discorso generale eh per quello che dici per quello che ci hai spiegato eh visto che noi non dobbiamo mai bloccare una reazione infiammatoria perché è ciò che ci permette di arrivare di ritornare in equilibrio di scaricare un carico tossico eh ti faccio un esempio ehm forse avevo già accennato questa cosa l'altra volta ehm quando una persona sta facendo una sta modificando la sua alimentazione il suo stile di vita eh in qualche modo si sta disintossicando eh cosa che io sto facendo da due o tre anni a questa parte e con con grandi benefici nel periodo però in cui io ho fatto questa cosa eh mi sono venuti degli sfoghi sulla pelle che però io ho cioè non erano degli ezemi non so come dirti ma era avevo la sensazione che fosse proprio il mio corpo che buttava fuori qualcosa che io dovevo eliminare e che duravano pochissimo allora quella era secondo me una reazione della mia pelle che buttava fuori qualcosa che non era un problema cronico era una cosa che una volta qua una volta là e poi è scompasso in quel caso se io metto per esempio su un punto che mi mi prude per due o tre giorni eh metto qualcosa non so del muro di carité piuttosto che un unguento alla lavanda in qualche modo faccio qualcosa di sbagliato perché vado a interferire con l'infiammazione che mi serve oppure lo ritieni non crea problemi è un modo per riusciare tu quando utilizzi una sostanza naturale ok fai una lievissima forma di soppressione se uno vuole essere proprio esatto è quello che l'ho chiesto sì ma in realtà molto meno prorompente e drammatica di quella che fai con un cortisone che in realtà è molto più efficace del muro di carité perché nell'arco che te lo metti qualche dieci minuti dopo il pomfo è sparito no anche meno e quindi dice proprio un'azione soppressiva importante più importante l'azione soppressiva e più ovviamente quella valvola di sfogo che l'organismo ha scelto viene tappata e più tu tappi e più costringi e qui torniamo al concetto di vicariazione perché è questo che fa l'omotossicologia spiega per esempio che la soppressione di un'eruzione cutanea può portare all'asma eh ce lo dicevi l'altra volta infatti è per quello che mi è venuta questa domanda ho detto posso mettere su qualcosa senza intervenire con dei farmaci o è un comportamento sbagliato dal punto di vista anche noi utilizziamo dei rimedi non è che lasciamo la persona grattarsi come se avesse le pulci ovviamente come ti ho spiegato è il l'intento che fa la differenza noi sappiamo e poi c'è un attenuante chiaramente alle volte anche noi utilizziamo dei rimedi che hanno un'azione antibiotica naturali fitocomplesso no effetti collaterali però pur sempre con l'ottica di abbattere la carica batterica perché perché ovvio che tu devi spezzare una lancia sullo stile di vita cioè tu non puoi lasciare una persona con una tonsillite a placche per dieci giorni cioè si butta di sotto dal balcone allora devi dargli un luxtimo perché per aiutarla a come dire abbassare la carica microbica perché il carico tossico che quella persona ha a quel livello è grandissimo il batterio è ovvio che è positivo perché sta mangiando quel carico tossico ma siccome noi siamo esseri evoluti ovviamente abbiamo la possibilità di abbassare un po' i batteri e di produrre la fuoriuscita di quel carico tossico utilizzando magari il rimedio giusto e quindi riusciamo a trovare questo equilibrio per cui far calare un po' il sintomo perché altrimenti la persona giustamente perde la fiducia cioè si scoraggia e allo stesso modo potenziare il drenaggio del carico tossico specifico per esempio con un lux faroto che per le tonsille noi andiamo a fare un'azione specifica sul carico tossico di questa zona e quindi abbiamo anche meno bisogno che il batterio rimanga per dieci giorni consecutivi ok e con l'inlux timo facciamo una lieve diciamo abbassamento della carica batterica perché l'aiutino l'aiutino ce lo concedi insomma è un equilibrio cioè è una ricerca di equilibrio tra quello che la persona può sopportare è quello che noi possiamo fare ok ultimissima cosa nel momento in cui un per esempio un dolore non è il frutto del rifiuto di un'esperienza ma di un trauma meccanico accidentale esempio io sono caduta da cavallo qualche anno fa ho avuto una caduta piuttosto brutta non ho avuto delle insomma non mi sono rotta niente però nella parte lombare ogni tanto questa cosa si fa sentire in questo caso come lo tratti un problema del genere magari un dolore che ogni tanto salta fuori visto che non è il frutto di un rifiuto dell'esperienza ma è il frutto di un trauma meccanico che tra virgolette non dipendeva da me in quel momento come la interpreti questa cosa e come agiresti su questa cosa allora innanzitutto il trauma il trauma non è mai casuale mai tu potevi cadere nel cavallo e romperti un braccio una caviglia battere il cranio per cui la tua non ho fatto nulla di tutto questo per fortuna no certo ma non è una questione di fortuna o sfortuna è una questione che la lingua batte dove il dente duole cioè tu hai il problema lì perché è lì che devi avere quel problema cioè io che cado sette volte nell'arco di un'infanzia e sbatto il il coccige è un caso? assolutamente no potevo sbattere i gomiti potevo sbattere la testa potevo sbattere il ginocchio no ho sbattuto sette volte il coccige è perché perché il trauma è sempre qualcosa che accade per stimolare una parte non c'è nessuna differenza tra il trauma meccanico e la malattia un trauma accade sempre nel luogo esatto dove deve accadere e risente della lettura del linguaggio degli organi se tu batti un gomito è perché hai un problema a portare al cuore c'è verso se tu batti un ginocchio e ti fai male è un problema perché hai un problema di non riconoscimento dell'umiltà non si scappa addirittura nella macchina se hai un incidente con l'auto e sbatti la parte sinistra c'è un messaggio per te perché potevi sbatterla a destra questo ma io pensavo che dipendesse in quel caso pensavo che dipendesse da da come mi ha sbalzato il cavallo è che in quel momento è un partito no? ok no ascoltami Anna Anna è tutto molto sottile è molto è perfetto ok è ovvio che dipende da come il cavallo ti ha sbalzato ad un certo livello ad un altro livello invece mentre il cavallo ti ha sbalzato potevi sbattere qualsiasi altra parte ok digeriscilo poi mi dirai la prossima volta che cosa vuol dire la parte lombare ok non so cosa vuol dire però magari scrivimi in privato che ti dico cosa vuol dire la parte lombare va bene d'accordo grazie 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 a te qualcun altro non siate timidi intanto ho trovato ho trovato nel mio cervello il nome della della sostanza che contenuta appunto nel colostro che è l'alfa lato albumina alfa lato albumina ok sostanza fantastica sull'intestino ma che noi abbiamo messo nel superbe terreno c'era qualcuno che provava a parlare forse l'isabelle no lisa ci sei ci sono sono stata buttata fuori per cinque minuti però ci sono fantastico adesso adesso ti sentiamo bene prima non ti sentiva proprio è da cellulare adesso da computer è diverso non capisco non capisco neanch'io però così ti si sente benissimo la prossima volta mi connetto col cellulare perché vedo che da meno problemi guarda sono i misteri della tecnologia incredibile anche io a volte dico ma perché qui non si sa non si capisce allora vi faccio vedere un'ultima cosa abbiamo ancora vabbè sono le 22.05 siamo abbastanza in in orario vi faccio vedere un'altra cosa aspettate che riprendo il powerpoint arrivo aspettate che sta entrando ancora qualcuno eccolo qua ce la possiamo fare ce la possiamo fare ok allora vedete questo questo lo avrete quasi sicuramente già visto questo è il il schema terapeutico che abbiamo utilizzato negli ultimi tre anni per lavorare sull'intossicazione da vaccino ok un protocollo anzi uno schema terapeutico non voglio usare la parola protocollo particolarmente interessante che non abbiamo creato per il vaccino covid ma che usavamo già anche sui bambini perché anche nelle vaccinazioni pediatriche creano a volte dei problemi ovviamente compatibilmente col terreno di chi li riceve quindi non è il vaccino in sé che crea il problema però è ovvio che in determinati tipi di terreno può essere l'innesco di qualcosa di importante allora usiamo il lux malt che regola l'intestino usiamo il lux dreme che drena la matrice connettivale usiamo il lux cerve che drena il sistema nervoso con queste tre cose normalmente più che sufficienti per avere degli effetti molto importanti in tutte quelle diciamo situazioni che dopo magari la terza vaccinazione sentono che qualcosa è cambiato per cui il rallentamento delle funzioni diciamo vitali il freddo c'è un'amica che mi dice sempre mi sento tutta fredda oppure un intorpidimento questo è molto frequente un intorpidimento a livello cognitivo ci sono tanti pseudo Alzheimer no oppure diciamo problemi di tipo circolatorio quindi insomma vedete che qua c'è anche un luxin che vi ho presentato prima questo è tuia e serve proprio per andare a rompere gli schemi diciamo così l'irrigidimento cognitivo e diciamo è comportamental caratteriale è tuia capisco che molta roba però ecco qui c'è un'esperienza appunto nostra più che trentennale in più quei famosi 200 anni di omeopatia con Hahnemann e almeno 70 con Rekeberg quindi bisogna che lo prendiate a scatola chiusa quello che possiamo fare con uno schema terapeutico con questo tipo di prodotti purtroppo non lo facciamo con un singolo integratore il singolo integratore può essere associato come abbiamo visto prima per esempio l'enacetilcisteina oppure per rinforzare la barriera intestinale dicevamo prima l'alfalatoalbumina questi sono io sono appassionata di questi di questi due integratori e poi uso molto le microalghe che trovo molto interessanti per la sostituire per sostituire i multivitaminici che sono assemblati a tavolino ok quindi le microalghe clamat chlorella spirulina eccetera questi sono un po' gli integratori che mi piacciono poi ovviamente in casa nostra come vi dicevo c'è il superbe terreno che è un po' c'è dentro l'alfalatoalbumina e altre sostanze che vanno ad avere un effetto abbastanza equilibrante su tutte le funzioni a livello sia dell'intestino che di altre diciamo funzioni di base ecco cosa c'è nel Luxmalt per esempio vedete che ci sono tre piante la vite il mirtillo rosso l'uncaria e poi c'è una parte invece quella immateriale biocibernetica qui vi ho lasciato dopo adesso al fine di questa serata vi lascio le slide mentre l'altra volta non ve le ho mandate perché la lezione non era completa vedete l'uncaria vi ho lasciato alcune note sulle piante e questa è la componente è la componente diciamo vibrazionale energetica e qui addirittura le sostanze vengono mutuate dagli organi del suino come la mucosa dello stomaco la mucosa nasale la mucosa dei seni paranasali questo è tutto dentro il Luxmalt ok e vi garantisco e dovete fidarvi di me che quello che si può fare con questo tipo di rimedio sull'intestino non si fa con nient'altro so se alla fine di questa lezione mi avete capito non si può fare questa azione regolatoria non si può fare con un integratore no neanche con un fitoterapico perché come vedete qua dentro ci sono cose che non possono essere paragonate ad una pianta l'azione regolatoria non si può fare in maniera così profonda se non con rimedi di questo genere e questo non è solo una teoria per me perché sono 25 anni che lavoro in questo campo e quindi ve lo posso affermare e confermare dalla mia esperienza personale oltre che da quella di diciamo così di tutte le persone di studiosi che si possono leggere sui libri ecco questo qui è il superbe terreno alfa latoalbumina alga clamat zeanxantina coenzima Q10 vitamina D3 melatonina quindi in sintesi se uno vuol prendere un buon integratore per aiutarsi nei cambi di stagione e un quant'altro questo è quello che noi abbiamo costruito e che contiene tutte quelle sostanze che riteniamo importanti per come vi dicevo prima apporto di minerali poi cerco enzima Q10 che sapete quanto è importante anche per il sistema cardiocircolatorio la vitamina D3 e la melatonina non la mettiamo per capire la mettiamo perché è a regolare gli oritmi Simona com'è il nome del prodotto si chiama Superbe Terreno Superbe Terreno ok sì e qua c'è la formulazione e poi lo trovate sul sito di Olos Luce che è quello che curo io e vi trovate tutti se volete anche andare a approfondire il prodotto alfalattoalbumina ah quanto mi piace non mi ricordavo di averla messa è la principale sieroproteina del latte umano nel colostro materno costituisce il 40% delle proteine ma è presente anche nel latte vaccino in quello di altri mammiferi è la sieroproteina in grado di ripristinare un corretto assorbimento intestinale quando è presente un'alterazione che compromette la corretta assimilazione dei nutrienti nei casi come dicevo prima in cui la barriera intestinale è superpermeabile c'è la leaky gut quella che vi dicevo che è dove le giunture serrate dell'intestino cominciano a slabbrarsi ecco siete sazi basta così Simo l'alga clamat che hai menzionato è la stessa che usa scoglio sì è la stessa dovete sapere che l'alga clamat è un'alga una delle è l'unica l'unica alga verde-azzurra che è spontanea cioè cresce in questo lago che si chiama clamat o clamath non so come si pronunci che sta negli Stati Uniti è un lago vulcanico e lì ci sono i raccoglitori di clamat quindi c'è ci sono delle aziende che raccolgono la microalga che si forma spontaneamente in questo lago mentre le altre microalga come la clorella e la spirulina sono fondamentalmente coltivate sono tutte alghe d'acqua dolce ok scoglio ha avuto il merito di portare la clamat in Italia poi ha costruito anche un'azienda intorno a questa a questa sostanza ok e la ditta diciamo le ditte che trattano la clamat non sono moltissime perché c'è proprio un cartello nel senso che questo consorzio che negli Stati Uniti la raccoglie c'ha questa esclusiva in Italia legata all'azienda del dottor scoglio mi sono spiegata e poi scoglio ha fatto moltissimi studi ho conosciuto medici che hanno collaborato lì ad Urbino ha fatto degli studi sulle ficocianine che sono queste sostanze di regolazione che regolano l'infiammazione contenuta nella microalga sono delle miniere queste microalga io mi sono perdutamente innamorata appunto perché uno dei medici che avevamo nella azienda per cui lavoravo prima era aveva lavorato insieme a scoglio ecco però insomma è efficacissima io l'ho assunta per tanti anni eccolo qua il bellissimo lago Klamath spettacolo bellissimo guardate cosa c'è nella Klamath dopo queste slide vi arrivano addirittura c'è il licopene come nel pomodoro gli acidi grassi omega 3 e 6 la vitamina K la stanzantina le vitamine del gruppo B cioè è veramente una miniera per quello mi sono innamorata ed è un vegetale quindi voglio dire cioè dentro tutto è dosato dalla natura non è una roba che fa l'uomo le mette un po' di questo un po' di quello questa è la magia vediamo cos'altro di interessante c'è lux dreme drenaggio del sistema nervoso ma voi avete mai sentito parlare di drenaggio del sistema nervoso cioè ma voi capite che noi riusciamo ad andare a prendere le sostanze che si depositano nelle guagne mieliniche superiamo la barriera emetroencefalica e andiamo a prenderci le sostanze che impregnano la materia grigia cioè voglio dire fatelo con qualcosa altro se siete capaci ovviamente curcuma ginkgo iperico sono funzionali ma la vera formulazione vabbè il ginkgo è meraviglioso non vedete che la foglia del ginkgo assomiglia un pochettino alla forma del nostro cervello il ginkgo è una pianta meravigliosa e non c'è niente di più importante per il microcircolo cerebrale non solo i ginkgo che sono appunto le sostanze contenute nel ginkgo hanno dimostrato che sono in grado di inibire l'attività del PAF il fattore di attivazione piastrinico per cui regolare i processi infiammatori ma soprattutto la permeabilità vascolare capite quanto è importante con la spike questo aspetto cioè è tutto non c'è niente lasciato al caso e questa è la componente è la componente immateriale anche qui questo è NGF il fattore di crescita nervosa somministratelo in un altro modo se siete capaci spero di avervi un po' innamorato perché qui c'è tanto raffinato tutto questo e ci vogliono anni e anni insomma per approfondirlo però spero di avervi acceso delle lampadine insomma di cosa stiamo parlando ok e questo è il Drain System Kit ve lo do perché siamo a febbraio e tra un po' c'è la primavera che è in calza quindi se uno vuol farsi una bella pulita generale usa questo schema in due fasi apertura e pulizia che come vedete lavora sul linfatico lux linfo sul rene lux ren sull'intestino lux stip la prima fase che è l'apertura degli emuntori la seconda invece lavora sulla matrice connettivale che è il lux dreme il lux circ sul tutto il sistema microcircolatorio quindi anche lì drenna il carico tossico a livello circolatorio e il lux berm per i parassiti ecco direi che adesso anche qui trovate tutto eh vi ho messo tutto dopo ve lo guardate i più diciamo i più accaniti hanno pane per i loro denti invece quelli che si stanno addormentando saranno salvati perché mi fermo qua eh commenti sono le 22 18 capisco che siate un po' lessi è un'enciclopedia dello star bene sì ecco senza senza voler entrare nei dettagli no ecco volevo solo mostrarvi cosa c'è dietro anche questi rimedi che alle volte mi sentite nominare tanta roba eh sì tanta roba tanta ricerca tanta diciamo anche tanto rispetto passione e tanta passione tanta passione sì spero che dopo questi due incontri abbiate un'idea più chiara di come vi volete curare quello sarebbe stato l'intento al di là dei particolari diciamo che sono anche alcuni tediosi però adesso avete un'idea più precisa beh io ti ringrazio moltissimo eh Simona perché per me sei veramente molto brava grazie Isa sei un tesoro voi siete eroici sapete cosa diceva mia figlia dice ma 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 come fanno io non ce la faccio mica a seguire una cosa del genere dopo cena e ho detto eh ragazzi la passione è tenere l'occhio aperto eh già eh già io volevo dirti ancora una cosa Simona io trovo che l'omeosinergia veramente ha questa grossissima capacità di racchiudere tutto ma tutto veramente tutto perché adesso mi è venuta in mente un'altra cosa mentre tu parlavi della proiezione junghiana il concetto di cui parlavi proprio prima quello che io sbagliavo a interpretare quindi tu ci metti cioè tu l'omosinergia tu per per perché la rappresenti ehm ci sta sia il concetto ehm psicologico che fisico che medico che naturale che comporta c'è tutto c'è tutto c'è tutto non c'è una parte che è lasciata fuori questo mi piace molto moltissimo grazie Loredana vorrei che ti ascoltassero eh Marcello e Giovanna perché eh è un bellissimo complimento ovviamente ti dico è necessario che ci sia tutto perché non puoi curare senza avere presente l'essere umano nella sua complessità per questo cioè non puoi curare una persona se non non hai completamente presente l'unità mente corpo dove vai hai capito allora hai stato no ma il problema è che tanti lo sanno fare ma a pezzi tutti a pezzi sì cioè per esempio le cinque leggi biologiche di Hammer ci sono anche qui dentro insieme ecco quindi tutte queste queste cose sono tutte cose verissime che già per assurdo basterebbero da sole ma qui c'è una potenza c'è una sinergia esplosiva perché c'è veramente tutto tutto l'innaturale nulla di allopatico nulla di 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 costruito nulla di di sintetico e e questa cosa qui non sapevo che potesse esistere io mi piace quello diciamo come lo stai dicendo e sicuramente farò ascoltare le tue parole appunto a Giovanna e Marciano visto che stiamo registrando perché è una messa comprensiva sì sì ma veramente è una messa a 360 gradi ma veramente eh sì grazie e come dico è una bella invenzione sì e più che altro nasce dalla dalla come dire dall'esperienza dalla necessità questa è la cosa che la rende completa tutto questo non è semplicemente teorico o sterile per me il grande valore il grande valore risiede nel fatto che poi noi le persone le curiamo davvero eh per forza arrivano le persone e sarebbe già bello teoricamente tutto questo ma poi devi anche dare il risultato nella nella pratica ecco assolutamente grazie 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 a te Simona bene ragazzi grazie Simo ecco adesso Paolo perché sei innamorato anche lui della mia sinergia lo sapete che sta facendo la scuola poi ne vedremo delle belle la prossima volta ho fatto parlare lui eh perché sarà fresco di tanti concetti bene allora se non c'è non avete altre domande o considerazioni io vi darei anche la buonanotte ragazzi che siete stati pazienti grazie mille buonanotte grazie Isabella ciao a tutti buonanotte grazie infinite buonanotte a tutti buonanotte a tutti grazie di essere stati con noi buonanotte ciao Issa ciao a tutti ciao Isabella buonanotte grazie a voi ciao ciao ciao